sono quasi arrivato a destinazione ovviamente sto correndo da stamattina alle sei sotto sono partito da da casalotti sono partito da casalotti cosa ho fatto tutta roma ci ho messo più di sei ore perché sono andato a san pietro poi sono andato a casa in sant'angelo piazza navona piazza venezia artare della patria colossefo termini fontana dei trevi montecitorio quirinale quirinale montecitorio piazza di spagna e infine palazzo piazzale praminia e poi la torna tutto indietro a base vallorelia vallorelia cornelia c'è casalotti adesso vediamo un baruzzo sono quasi arrivato a casa ovviamente è da stamattina dalle sei in quarto da stamattina che sto a cura potete vedere benissimo anche voi ho fatto ho fatto sei ore di corsa lenta ma sei ore di corsa io non sono veloce bensì resistente come potete vedere voi sono duda sono fraticio su un po c'è solo la mia duda occhiali portatelefono chiavi di casa ho fatto tutto esclusivamente a cura dalle sei in quarto da stamattina fino adesso è l'una in punto l'una in punto taglio tutto c'è perfino l'orologio del zuppo guardate manco l'ora si vede mamma mia sto distrutto taglio tutto mai arrendersi con determinazione sacrificio forza bontà sudore fiato tanta tanta costanza tenacia e soprattutto mai arrendersi si può fare tutto nella vita tutto che gli ostacoli ci sono le difficoltà esistono per essere superati dagli tutto mai arrendersi comunque metterò oltre a questo video metterò sia i video su instagram che ritraggono il video di san pietro il video di piazza del flaminio su instagram più tutte le foto a tutte le tappe piazza navona piazza spagna eccetera piazza venezia su facebook insieme a questo video taglio tutto ma arrendersi nella give up un bacio ci vediamo dopo a tra poco vado a un palestro taglio tutto mai arrendersi taglio tutto taglio 6 ore di corso dalle 6 e un quarto di stamattina tutta roma a correre lentamente ma a correre taglio tutto D'ahir